L'associazione Noi e Sviluppo fa tappa nel reparto di pediatria per allietare i piccoli degenti. Insieme a Babbo Natale, il presidente Giuseppe Baccaro e gli altri soci hanno distribuito doni ai bambini. Questo è il sesto anno consecutivo che l'associazione Noi e Sviluppo ha voluto donare un sorriso ai ragazzi ricoverati nel reparto pediatria. Abbiamo regalato panettoni, gadget e quant'altro. Ci si adopera per tendere una mano ai bambini, per regalare un sorriso, ma anche sul fronte culturale con appuntamenti, convegni, insomma un'associazione che sul territorio cerca di essere protagonista. Sì, è un'associazione molto viva. Anche in un solo anno abbiamo dato vita ad otto manifestazioni che hanno occupato sia la fascia quella culturale ma anche soprattutto quella sociale e solidale perché poi sono anche le manifestazioni che ti restano anche più nel cuore, se vogliamo dirla tutta. È un'emozione oggi stare con questi bambini e vederli in un momento in che dovrebbe essere di festa anche trascorrere un momento di difficoltà e quindi nasce proprio dal cuore questo gesto. Sì, è importante proprio perché almeno abbiamo dato nel nostro piccolo la possibilità anche di regalare un sorriso a bambini che effettivamente in un periodo di feste di Natale si trovano comunque ricoverati. E alle loro famiglie. Sì, è un'emozione forte ogni anno perché questa è una manifestazione che poi il Presidente Giuseppe Baccaro ha dato vita sei anni fa e che continua a ripetere ogni anno e sono contentissima di far parte dell'associazione e di avere quindi la possibilità di vivere comunque queste esperienze che sono veramente importanti.